Avete esigenza di una bocca alta con una cover speciale? Beh, Batman ne ha avute tante, tra cui Detective Comics 675. Molto bella, è vero? Era un Batman dell'epoca. Stiamo parlando del 1994. Giugno 1994. Chuck Dixon, Graham Nolan e Scott Hanna. Una bella copertina special. E un Batman versione d'epoca. Cioè con un costume completamente diverso. Una pubblicità, eccolo qua. Lo avete, non lo avete? Beh, se non lo avete io direi di procurarselo. Le tavole sono belle. La copertina è veramente special. Vale la pena di averne una copia. Consigliato. Soprattutto per i fan del Dark Knight Detective. Ciao, alla prossima.